E' un momento di ampie riflessioni in casa Virtus Lanciano. La scintilla che avrebbe dovuto ridare fiato alla classifica e feducia all'ambiente non è ancora scoccata e allora ci si interroga su quello che c'è da fare per invertire la rotta, ben sapendo che tempo ce n'è ancora. Sarà però importante accelerare il passo nel prossimo mese per poi affidarsi ad un mercato di gennaio col quale apportare quei correttivi necessari a giocare una seconda parte della stagione di buon profilo e accaparrarsi così la salvezza. Invertendo così il trend delle ultime due stagioni quando la Virtus ha fatto meglio nella prima parte del campionato che nella seconda ma arrivando a lottare per un obiettivo diverso, i play-off. Semmai ricalcando le orme della prima stagione con Gautieri in panchina quando un'ottima seconda parte portò alla salvezza passando da alcune mosse del mercato di gennaio rivelatesi decisive su tutte l'acquisto di Antonio Piccolo. Ecco, servirebbe una mossa di questo tipo per risolvere il problema dell'anemia del gol. Ferrari si è spento dopo il buon avvio, Lanini, Di Francesco e Padovan sono stati quasi nulli sotto questo profilo. Solo Marilungo ha una forte attenuante, un anno di inattività. Per il resto i nuovi di questa stagione hanno deluso e a tirare la carretta è stata la vecchia guardia, i soliti noti. Per i nuovi le prove d'appello iniziano a scarseggiare, ecco perché da sabato prossimo al Biondi contro il Latina si richiede una brusca inversione di tendenza. La partita assume contorni delicati, da non sbagliare perché la squadra di Somma è comunque avversario alla portata e i tre punti sono quanto mai necessari per iniziare la risalita. Il tecnico da Versa spera di avere a disposizione Nicola Ferrari e Federico Amenta che hanno saltato le ultime due partite ma che ieri hanno iniziato un programma di lavoro differenziato che potrebbe portarli al pieno recupero. A disposizione saranno anche Marilungo, tenuto fuori precauzionalmente a Chiavari e Di Cecco che nella stessa gara, dopo aver segnato, è uscito a inizio di ripresa per un acciacco che non sembra destare preoccupazione. Da Versa proseguirà con il modulo ad albero di Natale che ha denotato progressi, i quali però andranno tradotti nella terza vittoria in campionato.